Amici, eccomi qui sempre al Ghione con Caterina Costantini e Lorenza Guerrieri perché dopo il grande successo dello scorso anno a Torbella Monache e all'Arcobaleno con la vita che ti diedi, di nuovo qui dal 17 al 22 marzo Caterina Sì, siamo molto contenti perché il spettacolo merita, insomma siamo soddisfatti del lavoro svolto e quindi è come essere un po' premiati, no? Certo, certo, spettacolo che funziona si riprende Sì, diciamo che è uno spettacolo che tocca il cuore e quindi viva Dio ogni tanto tocchiamo anche quel cuore lì Quelle corde lì Quelle corde lì Lorenza, questo personaggio diciamo della madre che rifiuta la morte No, no, lei è la sorella No, no, io stavo raccontando un po' lo spettacolo Allora, questa mamma che rifiuta voglio dire la morte di questo figlio esce un po' fuori dai caroni piranderiani, no? Se ci pensiamo Ma credo che sia il dramma più serio, più sentito, più forte di Pirandello La mamma che si rifiuta della morte del figlio è una di quelle cose che devo dire però tocca talmente tanto I sentimenti veri di tutte le persone che hanno perso in qualche modo i loro figli E la sorella che è il mio personaggio cerca di assorbire un pochino questo dolore ma non Non c'è la paura anche che ha Però c'è anche una lucida follia, no? Nella sorella assolutamente sì Non certo nel mio personaggio che invece è molto lucido e molto razionale Si, si, cerca anche di metterla su una strada Di farla ragionare un pochino ma Tutto è inutile Il caso è lo stesso, no, Caterina? Sì, sì, sì Quindi c'è Ricazzone, poi c'è Maria Cristina Giunta Maria Cristina Giunta No, no, l'ho già detto tre volte Non l'ho sentito, scusa E la tua regia? Maddalena Lizzi e Vita Rosati, sì, la mia regia Perfetto, allora 17 e 22 marzo La vita che ti diedi, Teatro Chione Grazie a voi, grazie In bocca al lupo Crepi Crepi sempre O anche viva il lupo O viva il lupo È molto dibattuta questa cosa Non si capisce bene L'altra parola non la possiamo dire in televisione No, 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 va bene È poco televisiva Poi un giorno gliela spieghiamo quella parola che significa Grazie a voi In bocca al lupo Ciao